Amici di noi bianco celesti ben ritrovati, come sempre il giorno dopo la gara arriva il mio video di analisi ma prima di andare a parlare di Atalanta Lazio io vi invito a mettere mi piace su questo video a commentare se siete più o meno d'accordo con me sulla disamina della gara e chi non l'avesse ancora fatto metta l'iscrizione così iscriva al canale accenda la rotellina e clicchi sulla rotellina così da rimanere sempre informato su tutti i nostri video che riguardano la Lazio e non solo Atalanta Lazio è veramente ragazzi forse una delle prestazioni più deludenti di questa stagione dico forse perché poi alla fine secondo me dal punto di vista proprio della cifra tecnica altre sono state peggiori la semifinale contro l'Inter di Supercoppa Italiana potrebbe essere stata sicuramente peggiore però ecco siccome arriva al termine di un periodo in cui Lazio già domenica scorsa nella gara contro Napoli aveva avuto delle difficoltà qui mi sarei aspettato un atteggiamento completamente diverso ed invece la squadra di Sarri è rimasta in bambola per tutti e in 90 minuti in balia proprio delle onde create dalla squadra di Casperini una pressione a tutto campo che ha messo in seria difficoltà la Lazio che ha sbagliato moltissimo in fase di palleggio che ha sbagliato moltissimo in fase di costruzione che ha sbagliato moltissimo anche delle cose più semplici che non sarebbe stata una partita scintillante io sinceramente l'ho capito dopo 20-30 secondi quando Felipe Anderson praticamente messo in porta da Luis Alberto sbaglia un controllo elementare praticamente invece che fare un controllo orientato per tirare in porta consegna il pallone praticamente a carne secchi quindi sciupando così quella che poteva essere una potenziale occasione ecco questo è testimonianza del fatto che la Lazio sta vivendo un momento secondo me dal punto di vista offensivo io definirei proprio drammatico il tridente di ieri è un tridente che ha dimostrato delle lacune serie dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista dell'amalgama del gioco con i compagni movimenti che non sono letti dai centrocampisti movimenti che a volte vanno a cozzare con un compagno e poi ho visto duelli uno contro uno sistematicamente persi quindi questo ti dà un po' l'idea del polso della situazione adesso è inutile andare a puntare il dito contro Castellanos piuttosto che i Saxe, piuttosto che con Felipe Anderson anche perché poi alla fine questi giocatori tutti quanti alternati quindi unisco anche Immobile, Pedro e Zaccagni nell'arco di questa stagione stanno avendo un rendimento molto deludente andiamo a capire quali sono le cause perché queste bisogna capire io a inizio campionato quando ci furono quelle prestazioni un po' in sordina quella partenza shock con le due sconfitte vi ho detto che secondo me il problema era proprio strutturale e continuo a dirvelo può essere un problema di modulo per me il modulo influisce relativamente perché poi alla fine se tu vai a vedere tutti i giocatori giocano nel loro ruolo naturale perché i nostri esterni non sono secondi punte nei tre quartisti sono proprio esterni naturali da 4-3-3 e sempre quelli l'hanno fatto e quindi secondo me non è il modulo del 4-3-3 il 4-2-3-1 che può cambiare il 4-4-2 che può cambiare qualcosa secondo me cambia molto dal punto di vista dell'atteggiamento dal punto di vista anche della concentrazione e della voglia di soffrire ecco mi è sembrata un po' una squadra che non ha letto che era una partita in cui da giocare col coltello tra i denti ed invece l'abbia affrontata in punta di Fioretto ma già dal gol che prendiamo il primo di Pasalic Felipe Anderson gestisce un pallone poi va in uno contro tre prova a fare una Veronica cade a terra e l'Atalanta riparte lì un giocatore che capisce il momento che bisogna lottare che bisogna essere molto molto dal punto di vista fisico comunque presenti o prova ad andare a saltare l'uomo oppure allontana il pallone o magari fa un altro tipo di giocata che poteva essere quella di fermarsi e ricominciare da dietro lui invece praticamente prova a fare una giocata fisica con una Veronica ma cade a terra quindi stiamo parlando veramente di un atteggiamento complessivo di squadra di una lettura fisica della partita completamente negativa abbiamo visto Gira andare in difficoltà ma come Casale su De Ketel e su ogni azione l'Atalanta faceva sempre la stessa uscita palla con la palla che andava all'esterno di centrocampo la punta che si allargava sistematicamente sull'auto al ridosso della linea di laterale e dopo di che la situazione è in uno contro uno con il nostro difensore centrale che era costantemente in ritardo con il nostro laterale di destra che era in una posizione ibrida dove non riusciva mai a contrastare chi passava la palla e di impedire quel passaggio tant'è vero che poi il gol arriva in questa situazione qui con la palla che arriva credo a Ruggeri forse non ricordo chi fosse sull'out di sinistra Lazari esce con Isaksen che forse era posizionato in maniera corretta il pallone arriva a De Ketel tutto solo perché Lazari non l'ha seguito cross al centro, sponda in rete ma se dal punto di vista difensivo forse è questa la partita in cui la Lazio ha sofferto maggiormente ma poi è determinata anche dalla situazione che la Lazio non teniva mai il pallone non riusciva mai ad allungarsi, a ripartire eccetera eccetera quello che determina forse però il problema maggiore è quello offensivo responsabilità giocatori indubbiamente molti stanno rendendo al di sotto del loro livello senza alcun motivo ecco posso capire gli infortuni posso capire le situazioni legate magari a non giocare con continuità però siamo giunti a febbraio io credo che l'adattamento si può essere ancora un problema per i nuovi però ecco per i compagni quelli più esperti non è che se giocano con Castigliano spiuttosto che più immobile cambia qualcosa per gestire ecco la fase offensiva vedo tanta confusione vedo tanti sbagli è chiaro che qui manca devo essere sincero secondo me un provvedimento da parte dell'allenatore ovvero quello di determinare di azzerare completamente quello che sono le gerarchie di azzerare completamente quelle che sono alcune situazioni determinate degli status precedenti io credo che in questo momento debba giocare chi lo merita soprattutto ma poi chi non lo merita può essere anche messo fuori a partita in corso e non mi riferisco solo agli attaccanti ma mi riferisco anche ai centrocampisti il primo istituto Luiz Alberto dalla paggara di ieri credo che in questo momento la Lazio non possa prescindere da Vesino questo però determina pure il fatto che se noi Vesino l'anno scorso lo impiegavamo come riserva di lusso la prima riserva il primo cambio dei centrocampisti se oggi diventa una risorsa come titolare può essere un palliativo può essere una soluzione temporanea ma non la soluzione totale perché altrimenti ci sarebbe un impoverimento proprio della rosa recuperare Luiz Alberto al cento per cento è decisivo ma Luiz Alberto come si recupera deve star fermo deve giocare può giocare io credo che in questo momento Luiz Alberto così non ci serve alla stessa maniera dobbiamo capire Rovella è un ottimo giocatore secondo me fa pure un'ottima fase difensiva perché è molto dinamico molto veloce però deve assumersi responsabilità in attacco deve cucire il gioco in maniera più veloce deve prendersi responsabilità nel lanciare i giocatori si può cambiare anche tattica magari prevedendo invece che il solito fraseggio anche dei lanci lunghi andando ad aggredire i secondi palloni si può provare anche questo ecco questo secondo me è la parte in cui Sarri sta mancando quella di creare delle alternative di gioco a dei giocatori che in questo momento non riescono a metabolizzare quelle che sono le sue richieste e questo parlo per i nuovi per i vecchi a giocatori che stanno avendo un rendimento totalmente deficitario senza alcun motivo quindi se io voglio dare una giustificazione un alibi una corte di salvataggio ai nuovi arrivati Castellanos Rovella Gendusi Isaacsen via discorrendo per l'età il cambio del campionato eccetera eccetera il cambio di squadra al modulo la cosa per i vecchi ragazzi non c'è giustificazione perché Felipe Anderson fa il 4-3-3 da quando è nato Zaccagni lo stesso Immobile lo conosce a Benatito insomma così Luisa Alberto questo ruolo lo gioca da tre anni e quindi sa come interpretarlo e questi sono i giocatori che sono così deputati a aumentare quella che la cifra tecnica della squadra soprattutto sottoporta come se ne esce e io credo che in questo momento della stagione difficilmente si possano fare dei cambi radicali che possono determinare dei benefici immediati credo che poi la società abbia scelto per non inserire alcun giocatore nuovo sul calciomercato su Kent già mi sono espresso e ho detto che secondo me forse anche meglio che non è arrivato perché comunque non era il giocatore che risolveva i problemi alla Lazio però se la società ha dato fiducia a questo gruppo è chiaro che secondo me stravolgere il lavoro di Sarri in questo momento sarebbe soltanto controproducente quello che posso dire è che però Sarri deve capire in questo momento della stagione che non ci sono più prigionieri non ci devono essere più favoritismi e che deve giocare chi merita e chi è in grado di poter giocare quindi abbiamo capito che Luiz Alberto nelle ultime gare non può giocare abbiamo capito che Isaacsen e Felipe Anderson insieme non riescono a rendere perché Felipe Anderson viene messo a sinistra dove comunque non ha un grande rendimento Isaacsen sta facendo veramente fatica perché secondo me gioca un calcio diverso da quelle che sono le sue caratteristiche ma possiamo dire che è un giocatore ancora troppo acerbo per fare la differenza in Serie A per poter risolvere i problemi di una squadra come la Lazio quindi secondo me i problemi te li possono risolvere magari Felipe Anderson se torna al suo rendimento lo stesso Zaccagni te lo può risolvere Petro ecco magari può aumentare qualcosa nel suo rendimento che indusì sicuramente Luiz Alberto ma non te lo possono risolvere sicuramente Rovella Isaacsen e Castellanos che sinceramente abbiamo capito essere delle ottime riserve forse Rovella ecco anche forse diciamo Rovella è il titolare però ecco abbiamo capito che Castellanos e Isaacsen sono delle ottime riserve ma quello rimangono perché non possono essere in questo momento dei titolari e c'è bisogno che i titolari quelli che la scorsa stagione trascinavano la squadra lo facciano ancora adesso abbiamo visto anche la contestazione per lo Tito che secondo me poi alla fine è corretta perché comunque secondo me la società sapeva ed era a conoscenza anche più di noi dello stato fisico mentale tecnico di alcuni giocatori e doveva mettergli un po' di pepe per farli rendere meglio oppure poteva anticipare ad oggi un grande colpo che comunque sarà necessario in estate e quindi procrastinare allungare i tempi di questa decisione secondo me determina il fatto che questi giocatori adesso devono essere gestiti in maniera diversa ci deve essere qualcuno che li sproni a fare meglio oppure che li accompagni ai margini di questa rosa perché non può essere che quelli che erano scorsi erano trascinatori sono diventati dei blocchi allo stesso tempo poi c'è bisogno di qualcuno che dia delle certezze a Sarri e Sarri che dia le certezze alla società quali sono le certezze che deve dare Sarri quelle che finito cioè onestamente se ci accorgiamo che questa stagione sta andando in questa direzione piuttosto che far giocare un giocatore a scadenza faccio giocare un giocatore che è mio qual è l'obiettivo in questo momento quarto posto è lontano cerchiamo di puntare tutto sulla Coppa Italia abbiamo ancora delle frecce all'arco da poter scoccare ma la società deve mettere in chiaro quali sono le priorità con il tecnico e il tecnico dalla stessa maniera ecco deve capire che se non si può arrivare al quarto posto si possono arrivare ad altri traguardi come quello della Coppa Italia che può essere un traguardo molto importante e decisivo anche per quello che riguarda la serenità di un ambiente la società in questo momento può fare solo questo o determinare quelli che sono gli obiettivi principali secondo me questa rosa non può essere portata ad arrivare in fondo a tutti gli obiettivi ovvero arrivare quarta vincere la Coppa Italia che sono gli obiettivi che sono rimasti bisogna fare delle scelte ben precise bisogna capire quali sono le priorità per quanto riguarda ecco mi espongo già da adesso sul futuro di Sarri per me a fine stagione deve rimanere Maurizio Sarri e poi fare tutte le opportune valutazioni a bocce ferme dico questo perché credo che poi alla fine Sarri sia tra i responsabili abbia una fetta di responsabilità simile a quella dei giocatori minore rispetto a quella della società e quindi in questo momento cambiare allenatore secondo me non gioverebbe a nulla a nulla perché non ci sono allenatori in grado di poter determinare il futuro della Lazio in maniera positiva rispetto a Sarri Sarri già la scorsa stagione proprio in questa giornata quando perse con l'Atalanta in casa poi mese in scena un filotto di vittoria comunque cambiò proprio radicalmente il rendimento della Lazio e già l'ha dimostrato nella scorsa stagione di saperlo fare quello che però ecco deve capire il tecnico che deve guardare solo al bene della squadra e non allo status dei calciatori ecco forse è quello che in questo momento sta un po' mancando io vi lascio spero di di essere stato abbastanza esaustivo è stato un po' più lungo del solito però nel momento lo richiedeva ma prima di finire il video ovviamente vi ricordo di lasciare un mi piace di sul loro video di commentare dire se siete d'accordo con me su quello che ho detto e poi se non lo avete fatto iscrivetevi al canale oggi come sempre forza Lazio